Questa... Nne nne non so parlare Dove andai, biglia? Lo tussse, guarda la merda, guarda lo schifoso bastardo Sì, dai, bambì, però, eh Su, un anno per giocare la partita Come on, let's go La storia, la lava La distruzione delle nostre robe Guarda lì, che lavori Ciao a tutti, nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua sui minigames Oggi non siamo più su Minecraft, ma siamo su iPixel Che è un altro, comunque sia, sito famosissimo dei minigames E andiamo oggi a cercare, appunto, le Skywars Perché è un po' che non le faccio Dunque, volevo farne due o tre tipi Facciamo prima uno da solo, che è quella normale Cioè, join Allora, qui c'è uno che mi sta venendo a ammazzare Molto probabilmente, quindi Cerchiamo di Di combatterlo con i mezzi che abbiamo Sì, quasi possiamo andare di là Magari non ci vede Ok, magari ci ha visto, però, eh Facciamo appallate di neve Sì, è Natale In teoria Perché lui ha una spada incantata, comunque? Cioè, questa mi è Ah, ok Potremmo anche provarci Ci arrivo se andavo da giù Oddio, si è arrivato Raga, ma Perché lui è sottoterra? Mi convince mica a me sta roba Oh, è morto È morto, è morto, è morto, è morto Ok L'ho killato, quindi possiamo rubare la roba Perché tutta sta roba? Oh, chi ha data? A merda No, 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 no Questa cosa è una cosa slealissima Non mi fido del mio shift È che non sembra funzionare con la gra... A merda Ti ha zardamma più, eh Te che cazzo guardi? Oh, a merda L'ho colpito, l'ho colpito, l'ho colpito, l'ho colpito Scendi, scendi Scendi giù Ah, non funziona come... Maglio è becco Sì, voglio è benji Ehi, bimbetto Bimbettino Lo, 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 lo È morto, è morto, è morto, è morto C'è, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori Morto, ok No, 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 no C'è sì, vabbè l'armatura di diamanti Che è? E che l'è questa roba? Dai, ho fatto anche due kill Bastardissimo Dove andai, vigliacco? Tutto il sé Guarda, merda Guardalo Schifoso Bastardo D'altro che culo non mi ha scritto nessuno mentre registravo Perché lo faceva Facciamo così Io oggi faccio solamente le normal mode Se questo è video Non si sa come sia possibile Raggiunge i mille mi piace Farò anche l'insane mode Va bene? Ci state no? Quindi oggi farò i due Quello a team e quello normale Non so parlare Farò quello a team e quello normale solo E poi farò quello mega Quindi sono con questa tipa Tipo tipa non lo so Sta a vedere eh Sta a vedere Becco e il troll Becco e il troll Ne sono sicuro Ne sono sicuro Guarda che sta già preso tutto E la madocche Dai prendi tutto Ven via Oh 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 Che fa? Oh exp exp Ma è per lui Ma che cazzo vuole? Allora comunque sia Qui non si può scavare né niente Andare sul fondo Roba simile Proviamo Accadrà sicuramente che il mio amico muore E qua sopra ci ammazzano tutte e due Oh C'è un'isoletta qua sotto Uh uh diamanti 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 importanti Diamanti serpenti Don't touch my diamanti Oh Il mio compagno ha fatto una kill Madonna ma Solo compagno overpowered Tra l'altro aspetta ha avuto fortuna A parte qua sotto ci dovrebbe essere il blocco Ok Possiamo cercare di prendere quel diamante là Tra l'altro in teoria non so se questo è il modo migliore per giocare di Skywars Però Scia la zi Andiamo da qua Facciamo una stradina che ci condurrà il diamantozzo Per cercare di non perderlo più che altro Cioè se no si va da poche parti Possiamo prendere Ok Non ucciderò nessuno solamente perché sto registrando Altrimenti avrei già ammazzato qualcuno sicuramente Sì vabbè Shift buggato Scusami Scusami compagno dove sei? Cazzo è andato? Pensate che è morto Vabbè che tanto questa lì l'abbiamo fatto cagare Quindi possiamo anche uscire E facciamo il mega mod Che dovrebbe essere con un bordello esatto di gente Mo' casco di sotto regà Mo' sto a cascar regà Cavolo è fighissimo È tipo un Hunger Games fatto negli Skywars Cioè Un Un mini game inception Un mini game session Non mi a caso Peraltro ho questi capelli molto fluenti oggi Che nonostante mi sia messo la pasta Quella apposta per modellarli Gli ho troppo lunghi uno E troppo folti due Quindi fanno i cazzi loro È incredibile Sono veramente dei capelli ribelli Barra Come cazzo volete chiamare Sì dai bambi però eh Su Un anno per giocare la partita Come on let's go Quindi non dovrei essere a squadra Ah sono in squadra Bellissimo Ok Una cosa pazzesca Oddio Allora qua Oddio Attenzione Esbuchi va già a trovare La cosa fondamentale Attenzione Aspetta io ho questo icon Che posso spaccare Il diamante ragazzi Spacco il diamandozzo Ditemi se sbaglio qualcosa Ventre nei mini games Ogni Ogni apprezzamento Barra Insomma Aiutatemi a crescere Con un bel mi piace E con una condivisione Frasi a caso Uh Altro diamantozzo Per esempio adesso Vorrei fare l'ingordo E dire no ragazzi A voi non vi faccio niente Perché mi senti sul cazzo Perché io ho Sei diamanti Allora Prendiamo del legno E facciamogli le spade A questi A questi bastardi Perché ovviamente Non Non fanno niente Allora mi guardano E dire Facciamoci tre spade E tiriamogliele A questi bastardini Qua che mi guardano E i nostri compagni Raga dove Dov'è che sono Così per Per dirne una No 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 ragazzi Era troppo lontano Poi il nostro team Due Due Dove si è Perché siete due Guarda lì Guarda loro Tutti assieme Tutti belli Tutti insieme A spaccare il mondo Guarda lì Guarda lì Guarda lì Fanno le cose di gruppo Guarda lì Tutti insieme Girellano nell'isola centrale Piena di roba E noi invece No Tutti Guarda lì la lava Vi invito a lasciare Un bel polish Un bel polish In su A condividere A commentare A darmi mano A crescere Come giocatore Di minecraft Negli skywords E come youtuber Professionista Oramai Vi ricordo anche Che probabilmente Il 9 di gennaio Che è anche il mio Compleanno Vorrò ricevere Gli auguri Da voi Live Su Omegle Quindi Vi dirò a breve L'hashtag Ma seguitemi Su Instagram Per vedere Quale hashtag Userò Su Appunto Omegle E anche su Youtube Lo dirò Quindi seguite I video Di questi giorni Piuttosto Di domani Più che altro Comunque appunto E' stata la fine del video Ci vediamo al prossimo video Per questo video Era tutto Ciao Nini